Parlo da qui, vediamo un po'. Ok, dovremmo essere live. Ciao a tutti ragazzi, qui fra della storia sul tubo, siamo insieme a Jacopo e oggi ospite specialissimo Mirko Campocchiari in arte Parabellum. Applausi, applausi, purtroppo. Applausi, applausi. Volevo vennerli registrati ma purtroppo è andata così. Inizio, scusate, a fare una piccola premessa. Oggi vedete un setting un pochino diverso dal solito. Purtroppo abbiamo avuto una serie di problemi tecnici ma alla fine l'importante sono i contenuti e siamo tutti qui belli a farci vedere, a parlare. Come stai Mirko? Bene, bene. Siamo qui a discutere di Narcos. Io mi sono già tonto gli occhiali perché sennò... No, ma è una citazione di una citazione in realtà. Assolutamente. Era una clip fatta per Gio Pizzi, per il famoso video che aveva fatto, mi ha detto fai il pazzo in sindrome post-traumatica. In realtà c'è anche una retroscena perché io in realtà ne avevo fatti tanti. Ce n'erano anche alcuni, insomma c'era la scena di Rambo, quella finale dove dice, no, arriva il ragazzino, mi porta la scatola, no? E dice pulire il signore, pulire il signore, no? Sì, sì, ma me li ricordo quei cut. Poi Boneto aveva selezionato una serie di edit, appunto. Io gli avevo proposto una ancora più dark, eh? Fare quello del colonnello Curz di Apocalypse Now. Forse era un pochino spinta quella, insomma. Troppo pesante. Bisognerò trovare il maiale in quel caso. Per chi non lo sapesse, insomma, vabbè, piccolo retroscena con Specter Film, che è il collettivo che gestisce anche la storia sul tubo. Avevamo fatto appunto un video con Gio Pizzi e c'era proprio un inserto del buon Mirko che aveva fatto appunto la scenetta. Da cui, tra l'altro, abbiamo preso anche la copertina, perché il frame, in realtà, penso che Edo l'abbia proprio rubato da lì. Sì, sì, infatti è da quella. Mi era venuto in mente, sai, chi il personaggio, quello amico del Grande Le Boschi, quello che si parlava addosso sul Vietnam. Ah, sì. È vero, è vero. Il ragazzino da Nang. Quello un po' irascibile. Hai tirato fuori sempre il Vietnam. Sì, in qualsiasi momento. Non c'entra nulla il Vietnam. C'entra. C'entra sempre. Vabbè, ascolta, dai, Mirko, giusto per, così, per scaldarci un attimo, probabilmente nel pubblico ci sono anche alcune persone che non ti conoscono proprio nel dettaglio. Vuoi raccontarci un pochino qualcosa di te? Cosa fai su YouTube e tutto quanto? Allora, io ho cominciato il canale occupandomi di Seconda Guerra Mondiale, più precisamente 1920-1945 come periodo. Poi è scoppiata la guerra e, cioè, io cercavo informazioni come tutti quanti, no? Poi ho visto che era un inferno, ho cominciato, insomma, ad armarmi, a trovare metodi, insomma, per seguire la guerra e poi da lì, insomma, è venuto fuori il pandemonio, contatti in Ucraina con militari, con persone, altri analisti militari, geopolitici, militari, insomma, spesso ospiti generali, colonnelli, eccetera. Poi ho fondato un think tank militare che ora si occupa anche di fare assessment di rischio per aziende, quindi c'è una parte divulgativa, c'è una parte aziendale. Insomma, le cose si sono espanse molto, insomma, conferenze, stiamo scrivendo un libro con il generale Capitini, un libro con Giovanni Cicini, che è un altro storico militare che si occupa più che altro di storia del fascismo, storia della seconda guerra mondiale, anche lui, quindi stiamo scrivendo il libro della storia militare, insomma, del conflitto, perché avendolo seguito giorno per giorno, io sono molto preciso, molto metodico, ho tutte le cartelle con tutti gli avanzamenti, con tutte le mappe, e quindi credo che siamo tra i pochi, forse, in Italia, che hanno tutto giorno per giorno e quindi siamo in grado di fare un lavoro certosino in questo senso. Poi, sai, da cosa nasce cosa? Ho cominciato a collaborare con vari canali, con varie riviste, mi hanno chiamato quelli di Limes, Domino, ho fatto una conferenza con Dario Fabri a Iglesias, quindi scrivo per Limes e Domino, insegno per la scuola di Domino, e poi chissà cos'altro, nel senso. Beh, che aspetta, perché poi comunque, cioè, tu comunque eri già a prescindere da YouTube, eccetera, dell'ambiente, nel senso, tu hai proprio studiato nell'ambiente, insomma, è una serie di... Ma io in realtà no, cioè, ho fatto il mio corso di studi e poi me ne sono andato. Cioè, ho fatto da Game Design, non mi interessava la carriera accademica, ho avuto anche delle scazze, insomma, con alcuni professori. Poi, improvvisamente, da questa storia, visto che mi hanno abitato nell'Associazione Storici Militari, sono diventato amico con Virgilio Ilari, che è il presidente, in quanto dobbiamo rifare la conferenza di Montecuccolo. È nato così, io non avevo mai ricercato, insomma, questo genere di cose. Non sono un bravo insegnante, ecco, anche se mi hanno proposto ultimamente di farmi un contratto da professore alla Sapienza. Ma prego, aspetta. Un corso di studi strategico. Arrivano gli scoop diretti, proprio dalla fonte. Sì, insomma, stiamo lavorando con queste cose, perché poi, insomma, io ho pochissimo tempo, lo vedete, tipo oggi, quattro live di fila. Eh, no, vabbè, tra l'altro. No, quello senza dubbio. La cosa nasce cosa, onestamente, io non è che mi pongo dei... Mi piace fare un po' tutto in questo senso, quindi vedrei. Beh, però, scusa, cioè, perché ti riconsideri un... cioè, non ti consideri un buon insegnante, nel senso? Comunque fai un lavoro divulgativo di tutto rispetto, per cui... Perché mi annoia a ripetere le stesse cose. Cioè, io studio per accrescere le mie conoscenze. Se devo dire due volte la stessa cosa, già... Ah, ok. Lo ritengo io tempo... ma questo è una cosa mia. Mi piace sempre studiare cose nuove. Sono un tipico nerd, mai seguito calcio, mai andato in discoteca, io studio libri e basta, praticamente, fonti, libri, in continuazione. Ma non solo di storia, cioè, leggo fisica quantistica, astronomia, Carl Sagan, filosofia, poesia, qualsiasi cosa che ti accresce la mente, in un certo senso. Infatti, ultimamente, parlavo con Ricky Duffer del paradigma di Popper, no? Sulla tolleranza. Se bisogna essere tolleranti verso l'intorno. Cioè, qualsiasi cosa che ti espande la mente, a me interessa. Non sono mai stato attratto, diciamo, dalle cose più classiche, più italiane. Frivale, magari. Sport. Ma non lo so, perché credo che anche io faccio cose frivole. Sono acquariofilo. Mi piacciono le miniature, i giochi di ruolo. Giochi strategici. Certo. Quando dici, grandi classici italiani, come può essere il calcio, per dire, non ti hanno mai... Per niente, proprio. Quindi, vengo sulle cose mie. Quindi, dovendo sempre acquisire qualcosa di nuovo, devo andare a studiarmi qualcosa che non conosco. Quindi, non so quanto mi troverai bene a fare a ripetizione, non so, come fa un insegnante, un professore, per vent'anni, no? Sempre le stesse lezioni, perché più o meno è quello che fai, eh? Cioè, non è che... Beh, chiaro, sì. Alla lunga. Preferisco... Sarò magari selfish, in un certo senso, ma preferisco studiare per conto mio per guadagnare più informazioni che non rifare lo stesso corso dieci volte. Da, assolutamente. E infatti, io mi volevo collegare a delle domande che abbiamo ricevuto dai nostri social per prepararci a questa live. E ne approfitto per salutare tutta la gente in chat, fra cui c'era anche Guido, che è passato per i saluti ed è scomparso. Però lo salutiamo. Un saluto a Guido. Un altro creator che è venuto in live l'altra volta. E, fra le varie domande, collegandomi appunto a quello che abbiamo appena parlato sulla divulgazione, eccetera, ma abbiamo parlato anche del fatto che ti piace tutto quello che espande la mente, qual è il tuo libro preferito, se ce n'è uno? Oddio, sci-fi, nel senso il ciclo della fondazione. Oh, che bello. Però mi piace anche il fantasy, cioè non è che mi faccio problemi. Il cronaca del ghiaccio e del fuoco, Shannara, qualsiasi cosa. Ovviamente sì, il Signore degli Anelli, l'Hobbit, il Silmarillion, eccetera, eccetera. Ma guardo anche anime, manga, soprattutto quelli un po' più cervellotici, come possono essere Ghost in the Shell, Cell Experiment Lane, però ho guardato anche Goku, Cavaliere dello Zodico, qualsiasi cosa. Forse il mio anime preferito è Cowboy Bebop, perché mi piace l'atmosfera un po' blues, Noir, no? Mamma mia, che gusti, che gusti soprappini. Non esageriamo. Ecco, forse un hobby è la moto. Ah, dai moto? Sì, custom, sempre stato, da quando ho 16 anni ho sempre avuto la moto, quindi sono più da moto che non da macchina. Preferita? Eh. Casa italiana preferita? No, io sono più per le giapponesi o per le Harley. Ah, capito, capito. Non per le sportive, però se dovessi scegliere una casa italiana è un Ducati. Eh, vabbè, dai. Ora che me lo dici però ti ci vedo su un Harley, che devo dire. Ah, è vero, pure io ho appena sentito un Harley. Ora che sappiamo. Gli occhiali. Shopper, terribile. No, tra l'altro invece. È mio Steve. Stavo pensando una roba, perché poi tu, nel senso, tu appunto, come hai detto, hai iniziato parlando della Seconda Guerra Mondiale, mi ricordo ancora qualche video ormai vecchio, appunto, dove proprio, come dire, esplicitavi qual era l'intento anche del canale, tutto quanto, il percorso, e all'epoca, correggimi se sbaglio, non lavoravi molto più su video che appunto venivano pubblicati con cadenza, prima di poi passare effettivamente quasi completamente da ormai un anno a questa parte, alle live. Sì, io in realtà non volevo nemmeno apparire. Ah sì, cioè proprio volevi soltanto voce? Non mi interessava, mi interessava fare i miei video, farli bene, essere molto preciso, una roba da nerd, infatti lì, cioè, il canale lo diceva, questo non è un canale di divulgazione per tipo pillole di storia, è più una roba per veramente gente polverosa, e quindi volevo semplicemente, io mi ero scritto tutto il percorso dei video da fare, partendo ovviamente dalla dissoluzione delle forze armate tedesche, dai trattati di Trianon, Versailles, queste cose qui salendo su quelle cose che io ritengo fondamentali per arrivare alla Seconda Guerra Mondiale, quindi la guerra polacco-russo-sovietica, la guerra d'Etiopia, alla guerra di Spagna, poi arrivare piano piano alla Seconda Guerra Mondiale, ma farlo in maniera cronologica, cosa che non avviene praticamente mai, in modo che se uno scopre il canale, comincia dal primo video e sale, cosa che poi torneremo a fare, perché nella guerra in Ucraina mi ha dato visibilità, mi piace quello che faccio, perché per uno storico militare occuparsi di un conflitto, beh, non è che succedeva in Europa, dai tempi della seconda guerra mondiale, se non si considerano piccole parentesi come ex o la guerra jugoslavia, cose del genere, quindi è un'occasione d'oro, è un po' come trovarsi come Lidlart a seguire una guerra, parato meglio di Lidlart perché lui si affidava alle memorie, no, di Guderian, di Malenstein, certamente noi ben o male abbiamo anche delle fonti quasi dirette, il soldato che fai video, queste cose qui e quindi poter scrivere un libro su cui è una cosa che ti capiterà una volta nella vita, una cosa del genere, quindi è una parentesi dal mio punto di vista, io poi tornerò a fare divulgazione storica perché comunque lo scopo del canale è quello, però una parentesi di geopolitica ormai rimarrà, perché comunque mi sono fatto amici tanti analisti geopolitici, quindi continueremo magari a seguire Taiwan, a fare la mappa di Taiwan, della Siria, del Sudan, eccetera, perché comunque piace anche a me essere informato, io di solito non parlo di argomenti che non conosco, quindi se devo parlare di Sudan invito uno che si occupa di Sudan da 12 anni, come era Polichieni l'altro giorno, perché un po' l'ho intervisto, un po' chi non so, ma tanto assorbo io come una spugna informazioni da lui, quindi mi diverte perché mi permette quasi di ricreare l'ambiente universitario, comodo da casa, perché io sono pigro, dove tu inviti generale e stai lì, ascolti e godi. Tranquillo, sono topo al trono. Esatto, ti racconta tutte le cose e questa è la parte che mi piace di questo lavoro, avere accesso poi a personaggi con curriculum, insomma, estremamente importanti che mi degnano della loro presenza, della loro stima e da cui io posso attingere informazioni. Sicuramente per la qualità del prodotto che crei, la stima mi sa che va anche nei tuoi confronti, contando che sei un luminare di quest'ambito, anzi vieni riconosciuto come tale. Io cerco di tenere la linea bassa. Certo, io faccio il massimo di quello che posso con il limite delle mie capacità cognitivi, delle mie esperienze. Per me il mondo della geopolitica è una roba di, cioè ho letto Mahan, ho letto tante teorie, leggevo le dottrine Wolfowitz, tante altre cose, seguivo comunque per conto mio, lo testimonia anche il disco, cioè io video di Mir Shamer, di Poznar e altri li guardavo anni e anni fa. Io ho cominciato a guardare conferenze di geopolitica, di Realpolitik già dieci anni fa. Però pure mia, semplicemente perché mi piace conoscere le cose. Però ora è diventato qualcosa di pratico, di utile. Ho notato molto interessante, puoi collegare molto bene la storia della geopolitica, cioè la conoscenza storica della storia dei paesi, dei conflitti, eccetera, ti aiuta ad avere un livello di profondità ulteriore sull'analisi geopolitica. Conoscendo benissimo la storia del prometeismo, di Pilsudski, la storia dei re Iaghelloni, del regno polacco-lituano, eccetera, mi permette comunque di agganciare molto bene quello che pensano i polacchi oggi di questa situazione, capendo bene la loro psiche, quello che hanno passato, aiuta tantissimo. E c'è un buco divulgativo dal mio punto di vista in Italia, in Europa in generale, per quanto riguarda l'Europa, non la chiamiamo dell'Est, ma in realtà è l'Europa centrale, si guarda bene la cartina. Il primo libro che stavo scrivendo e che finirò perché comunque un progetto di mia vita ormai c'è 700 pagine, però mi dicono che è brutto buttare fuori più di libro all'anno, cercherò di cadenzarli. È proprio quello sulla guerra sovietico-polacca, di cui in Italia non esiste praticamente niente. Beh, sì, non se ne parla, ma anche a scuola non è che si studi approfonditamente. Che invece è fondamentale, visto che voi vi occupate di prima, seconda guerra mondiale, perché quando ci si chiede, ma perché i polacchi non hanno fatto entrare i russi nel 39 a proteggerli, eccetera, beh, avevano qualche motivo. Devi capire anche gli aspetti culturali che ci sono dietro. Meno di vent'anni prima avevano i russi davanti alle porte di Varsavia, non mi raccomo della vistola. Vistola e via. Poi ci sono delle cose strane che la gente spesso scorda, ma perché gli inglesi e i francesi hanno dichiarato guerra ai russi? Eh, boh, probabilmente non gli può venire. Mi ha appena fatto ricordare quando un me molto più giovane ha chiesto alla professoressa di storia, di storia contemporanea, quindi ero già in università, questa stessa domanda e la prof non mi diede risposta. Ti è rimasto quel punto? No, vabbè, bisogna andare avanti, è un punto complesso. Sentiamo, sentiamo, finalmente. Perché nelle clausole degli accordi di protezione della territorialità polacca c'era scritto che li avrebbero difisi dai tedeschi, ma non dai russi, ma non la fecero mai vedere, quindi ai russi avevano sempre il dubbio, no? Se erano inclusi anche loro. La verità è che l'Inghilterra e la Francia non volevano garantire la Polonia contro la Russia, anche perché non era fattibile. Sinistamente non era fattibile neanche con la Germania, però quantomeno con la Germania aveva un terreno di contatto, quindi si poteva fare qualcosa. Ma con la Russia, se la Russia aggresce alla Polonia, la Polonia cede, tu ti trovi in guerra con la Russia, la Polonia è caduta e ti non ci puoi fare niente. Quindi era un discorso di realpolitik, però spesso questo passaggio si scorda, no? Sì, alla fine è anche un po' quello che facciamo, quello che tentiamo di fare noi, alla fine noi abbiamo il nostro video della Seconda Guerra Mondiale, che sono un'ora e mezza di robe, ma persino mentre eri in fase di scrittura percepivo, perché li scrivo io molto spesso, di star lasciando fuori tantissime cose, tantissime cose anche importanti. Purtroppo però il minimo comune denominatore è molto basso, tra virgolette, e quindi bisogna tenere un po' l'informazione a un livello un pochino più basso, perché sennò riescono fuori i video di sei ore e perde anche forse di senso sulla divulgazione, perché è il motivo per cui stiamo facendo anche questa live, perché noi abbiamo due stili di divulgazione, siamo nello stesso ambito, ma due stili un po' diversi. Ma sì, io volevo attrarre esperti, per il piacere che poi si entrava in contatto, si collaborava e cose del genere, cioè io l'ho fatto per me. Non so, spesso la gente fa i canali YouTube, voglio avere tanti utenti, una cosa del genere. Io l'ho fatto per me, per dire se ci sono altri pazzi come me che si mettono lì a litigare se aveva ragione De Bono, se aveva ragione Badoglio sulla linea del fronte del tigre e cose del genere. E li hai trovati effettivamente questi pazzi? Sì, li ho trovati, tanti sono finiti ai miei think tank, tanti collaboratori, tanti altri insomma che hanno riconosciuto certe mani e qualità nel fare le cose. Io non faccio tante cose, ma quelle che faccio le faccio al 110%, sono uno che fa focus su una cosa e faccio solo quella. Mi dedico al conflitto in Ucraina 15 ore al giorno, per dire esco solo per andare a mangiare una volta nei tot giorni al ristorante con qualche amico o in bicicletta la sera dopo le live, basta. Per il resto come torno, boom, tutta la notte di nuovo a seguire la cosa. Faccio una cosa a 110% e non me ne pento, insomma, io sono sempre stato così. Vai cacchio, sicuramente questo è importante, soprattutto per il mondo dell'informazione che ha dimostrato con la guerra in Ucraina di essere un po' impreparato a gestire il flusso di informazioni da un campo di battaglie intenso e continuo. È un unico, è un unico quello che sta succedendo. Un pochino la guerra nel golf già la seguivamo così, ma quello che stiamo seguendo ora è veramente una cosa che bypassa completamente l'intermediario. Non c'è più il giornalista sul posto, sì ci sono, ma il numero di informazioni che ti può trasmettere lui dalla sua visione, diciamo, locale, è comunque inferiore a quello che viene prodotto in un giorno a livello di video, autoprodotti dai soldati, dai civili, eccetera. E lì il metodo, per esempio, d'archivio serve, sapere archiviare, ma anche con la tecnologia, perché quanti doppioni ti capitano, quanti fake, quanti video vengono spacciati. Oggi, esempio, attacco missilistico sulla diga di Nova Kakovka, su Twitter hanno rimesso fuori il video di novembre. Il novembre del primo bombardamento, sì, l'avevo visto. Io ormai guardando, li conosco, ormai vedo anche i video proprio del cararmato che usciva dietro da Lancespuni, quello l'ho già visto, non so che fa. Sì, con i due carri armati. Però con il digitale riesce a fare queste cose, insomma, in maniera molto meglio, con algoritmi, con controllo, insomma, anche proprio del bitrate, delle informazioni, si riesce a filtrare. Mi volevo collegare a un'altra domanda ricevuta. Cosa hai imparato da tutta questa esperienza con il mondo dell'informazione? Che un branco di gente pagata poco per fare informazione è un grosso danno, perché spesso devono fare il titolo sensazionalistico, perché il poveraccio guadagna 20 euro e deve comunque portare a casa la pagnotta, e quindi ti tira fuori il T-14 armato, il carro russo che distrugge le città con un colpo, cose del genere. Ho notato poca specializzazione. Articoli sul nucleare, articoli, ormai è diventato un meme il fatto che un furgone è un carro, un blendato è un carro, tutto è un carro, basta che c'è un cannone sopra, o qualcosa di molto simile. Ho notato che soprattutto nei media generalistici mancano gli esperti sul nucleare, di geopolitica, di questioni militari, eccetera, e che viene dato poco spazio. Le mie esperienze in tv sono andato su Sky TG, sono andato a Radio 24, Radio Rai 2, RSI Svizzera, queste cose qui. Sì, sì, ci sono andato, ma in tutta la confidenza sono assolutamente inutili. Due minuti, tre minuti, sette minuti, quello che puoi dire è telegrafico. Manca l'approfondimento in tv. Io guardavo i vecchi video, questa è la storia, l'ho raccontata 700 volte, Almirante contro Giorgio Bocca o cose del genere, due persone vedute completamente opposte, però i modi, la dialettica, i tempi per parlare erano un'altra cosa. Tu non vedresti mai un generale oggi o due generali italiani che discutono per tre ore tranquillamente in un salotto, in tv, e li viene dato tutto il tempo. Io mi ricordo Emilio Gentile, che discuteva con, non mi ricordo se era Paxton o Sternel, altri storici insomma del fascismo, così tre ore e quaranta di discussione con un moderatore che interveniva a pochissime volte. Ma te te l'ho immagina l'approfondimento di quattro ore sul fascismo quando è storico? Oggi non sarebbe possibile, cioè è difficile, ma perché i tempi sono anche cambiati, capito? Cioè la gente non ci sta più dietro, è quello anche il problema, capisci? Eh ma questo è un decadimento culturale, è enorme. Infatti ti volevo chiedere, molti cantonati che hanno preso i giornalisti odierni si basano molto sull'assenza di cultura, anche militare. Io come te ho una preparazione storico-militare, quindi possiamo vibare usando un po' un anglicismo. E quanto pensi che sia importante una minima anche preparazione di questo tipo storico? Guarda, caschia fagiolo, nel senso che io e Capitini in generale stiamo scrivendo proprio un manuale, 250 pagine, che è una specie di manuale dove ti spieghiamo cos'è la dottrina, la tattica, che cos'è un fissaggio, che cos'è un contrattacco, che cos'è una difesa dinamica, come sono divise le unità brigata, divisione, eccetera, quali sono le unità combattenti. Insomma, spieghiamo cos'è la differenza fra la dottrina, modus operandi, tattica e strategia, le dottrine sono blitzkrieg, la dottrina NATO, la globo-cai operazia, la dottrina della guerra in profondità russa, che è una specie di libretto, tu ti leggi quello, poi vai a leggere un libro di storia e capisci, ah, questo è un luogotenente colonnello, questa è una divisione, questa è una brigata, già mentalmente a secondi di quanti uomini si sta parlando, questa è una brigata meccanizzata. È un libretto che secondo noi sarà molto utile, una specie di glossario. L'altro che mi ero, è praticamente scritto, però io stavo scrivendo, io poi sono in un lavoro in parallelo, quindi ne stiamo scrivendo i vari, nel senso c'è quello sui miti della seconda guerra mondiale, che è un libro che si può leggere a sé, nel senso che è praticamente una specie di libro di debunk, nel senso lo leggi e trovi, che so, quando lì dell'arte parla, che ha insegnato lui a Guderian, nella Blitzkrieg, che è un branco di cavolate, oppure quando c'è la famosa promessa di Goering del ponte aereo a Stalingrado, una cavalata debunkata, perché era il suo secondo, Gescione, che l'aveva promesso a Hitler, perché Goering era a Berlino, quindi non poteva neanche farlo. Tu leggi quello e non hai bisogno di leggerti centinaia e centinaia di libri, magari anni 50, 60, 70, che all'interno hanno delle cose false, perché poi altre fonti hanno dimostrato. Eh sì, è la base accademica del falso in cui ti fico. Io lo chiamo quasi un bugiardino. Tu leggi quello e non hai bisogno di leggere, come ho fatto io, duemila libri di storia militare, e lì già trovi tutte le cose, quando leggerai l'ideal art, storiografia della seconda guerra mondiale, sai, ah, questa è una cavolata, è già stata debbancata da Glanz, è stata debbancata da House, da Cavaleri Chick, e da altri, quindi ha un'utilità. Quindi mi piace fare cose utili, io ritengo che scrivere l'ennesimo libro sulla seconda guerra mondiale, l'ennesimo libro, che so, sull'epanto, cose del genere, dal punto di vista storiografia, sia assolutamente inutile. Non fai altro che rimaneggiare i lavori di altri, riscrivendoli con la tua scrittura, ma non apporti nulla di nuovo, e quindi non ritenendomi in grado di apportare qualcosa di nuovo alla seconda guerra mondiale, credo che un lavoro di questo tipo abbia un'utilità sulle persone che magari leggono un libro e poi scoprono dieci anni dopo che alcune cose che hanno letto sono delle cavolate. Quindi ha un'utilità di per sé, un libro di quel tipo lì. Mentre sulla storia dell'Ucraina, sulla guerra in Ucraina, secondo me è utile perché sarà uno dei primi, e quindi ha un'utilità, è un lavoro originale. Beh, buono. Ma ascolta invece, Mirko, tu comunque vai in live tutti i giorni, fondamentalmente ormai, più o meno. Ma oddio, sul mio canale no, però sono in live... Però fra una cosa e l'altra, esatto. Quanti live fai a settimana, più o meno, sul tuo canale? Due, tre. Due o tre. Poi dipende, a volte si accavallano le cose, anche perché io posso programmare tutto quello che voglio. Poi ti arriva la telefonata, mi scrivi l'articolo, mi lascio l'intervista, vieni un attimino a radio, vieni qui, quindi... Quindi ormai lo incastri un po' fra i buchi, dai, per una cosa e l'altra. Sì, cioè, ci sono state giornate dove ho registrato un pezzo per l'Imes a mezzogiorno, alle 13 ero da grieco, il pomeriggio mi chiamava tipo Svizzera, il pomeriggio avevo una riunione, la sera una live. Quando si suol dire l'agenda piena, però. Ma tu, poi, con, come dire, la guerra in Ucraina è un topic estremamente complesso, ovviamente, e soprattutto, a differenza magari di argomenti storici come quelli che magari trattiamo noi, c'è da fare un grande filtro di tutte le informazioni, perché nel senso, immagino non sia un discorso... Tu dice l'approccio? Nel senso, la Mark Block o... Eh, non so. Joala di Aeropantica mi dice che tanto lì rompono le scatole, anche se parli di Sparta e Atene, cioè, si dividono anche lì. Sì, a parte quello, certo. No, quello, vabbè, quello assolutamente, come dire, l'utenza di parte c'è, ci sarà sempre, e le informazioni sono quelle che sono, però più che altro io pensavo dal punto di vista del tuo approccio, cioè, come filtri le informazioni? Cioè, come fai ad andare a trovare quello che secondo te può essere una verità, chiamiamola oggettiva, per riportarla in un documento che poi alla fine ha l'ambizione di essere, come dire, appunto, oggettivo? Ci sono delle cose moderne che ci aiutano, la geolocalizzazione, per esempio. C'è un video, si vedono delle unità, si riconoscono i paesaggi, certe peculiarità orografiche, con la geolocalizzazione, tu sai che quell'unità era lì e faceva quello. Quindi quella è un'oggettività che puoi avere oggi. Poi ci vuole anche tanta conoscenza sulle cavolate spacciate, perché io c'ho una buona memoria, avendo visto un video so già che quello è un vecchio video, quindi allora spacciano e cose del genere. Controllo incrociato, preferaggio cieco praticamente, che ci facciamo da soli, perché io faccio la live, ma ci sono altre persone che collaborano con me, sono una quarantina ormai, ma anche tanti utenti, perché io c'ho un ottimo rapporto con l'utenza diretta, io parlo sul mio Telegram, se uno mi tagga, insomma, rispondo, e quindi c'è tanta gente che mi riporta, guarda che è uscita questa cosa qui. E poi ho una community che ho educato in questo sistema. Nel mio Telegram c'è tutto un sistema di tag, se vuoi rispondere, rispondi con le fonti, cioè te esce una cosa, uno lo posta e c'è un altro che dice, no, aspetta, questo è un falso che è stato pubblicato qui. Sono un po' come me, quelli della mia community, quindi controllo, anche io se faccio una cavolata, ah, guarda che hai sbagliato. Giustamente, hanno imparato bene, per cui. Ti suol dire che il creator plasmi la sua community, un po' la sua immagine, quindi... Attiri persone che bene o male la pensano come te in questo sistema, e quindi è una specie di referaggio cieco di massa, in un certo senso. Quindi ci sono tantissimi occhi che controllano le cose. E onestamente in 207 live, credo di essermi sbagliato meno di cinque volte, aver usato una volta un video che era sbagliato, di teppisi, e poi mi correggo sempre, dopo io metto questa quell'errata courage. Però sì, tanto è la community, fa tanto la community in quel senso. Perché, sai, sono limitato da solo con i miei collaboratori, ma se poi centinaia di persone che si mettono a guardare una cosa, scavano, scavano, scavano. Poi ovviamente abbiamo contatti ucraini, russi, quindi guardano le cose in lingua originale. A volte un video spacciato per ucraino, russo, loro sono in grado di capirlo dall'accento. Anche in che regione è quella sensibilità che io non potrei avere, anche se parla russo, però se sento un ucraino che parla russo non saprei dire se è di Donetsk o se è di... Sì, di Leopoli. Ecco, esatto. Cavolo. Insomma... Le cose te le devi inventare, cioè devi cercare tu di capire come puoi arrivare a scoprire una cosa e ti armi un po' di metodologia che ti devi improvvisare te, perché questa è la prima guerra che affrontiamo di questo modo. In questo modo. Con tutte queste informazioni immagino proprio di sì. Cioè più che altro in diretta, il discorso è questo. In diretta il flusso di informazioni è enorme e i duplicati sono anche enormi con diverse letture. È proprio quello del problema. Per questo io tendo a rimanere sulle cose oggettive, no? Nel senso c'è un video, c'è un battaglione che viene distrutto, c'è localizzato, sappiamo quale unità è, eccetera, lo possiamo dire. Cerco sempre di non usare un personalismo o di raccontare i fatti come se io ti fassi per una parte o per l'altra. Questo è molto importante come approccio, che viene nel tempo. Cioè più indietro si va nella storia, più si è molto meno sentiti come, diciamo, partigiani da un lato e dall'altro. Perché se parli della guerra dei trent'anni è ovvio che uno non arriverà lì e dirà, ah maledetto, noi della Vesfalia ci vendicheremo. Invece quando parli di un argomento molto più moderno c'è sempre il rischio. Anche solamente un commento sarcastico, un commento messo in maniera sbagliata, un accento sulla parola che può essere letto in maniera sbagliata. E tu come affronti questa sfida? Un po' me ne frego dei commenti. Tanto c'è un certo percentuale di persone che comunque ti offenderà o ti attaccherà per qualsiasi cosa. Tipo prendo in giro la propaganda russa, ma ho debancato anche video occidentali tipo di missili sopra la centralizzata poesia che erano dei comignoli fatti vedere da France 24, oppure i russi che attaccavano con le pale. Narrativi tipo i russi hanno finito i missili. Ogni due mesi. Ogni due mesi. Ho detto fate pace col cervello, cioè non può essere vero per sempre. Anche perché i nostri contatti, infatti poi nel tempo ho elaborato anche dei contatti di buon livello, con buona fame, Locatelli, Steinmann e altri che sono proprio inviati, non solo gente lì che mi dice c'è un mio cugino nella 93, ma ti metto in contatto. C'abbiamo anche quelli, per carità, ormai in una decina di unità. Quindi bene o male sappiamo quello che succede. Perché comunque anche la mia community è frequentata da molte donne, anche ucraine, che hanno parenti, che hanno fratelli, zii, padri, che combattono. Quindi molto nasce anche così. Ti hanno i contatti. Sì, sì. Ti chiamano proprio loro, ti mandano le foto. Non hai idea di quanta gente o tutti i giorni mi scrive su Facebook, Instagram, mail, mi mandano video, contatti, anche di cose. Perché sai, io più di tanto, quanto posso esplorare da solo, anche con 20 persone. Loro invece magari leggono il giornale locale, oppure mi raccontano dell'unità territoriale locale dove è andato il cugino e si è spostata nel territorio X. Poi i rapporti con i giornalisti servono anche per quello, che lo sono sul posto, ti possono dire ho visto questo, ho visto quello, però non dirlo. Però io lo tengo per le mie analisi. Non lo dico, ma lo tengo per me. Perché ovviamente col genere di informazioni possono andare a minare, insomma, anche la preparazione, insomma, degli ucraini, o mettere in pericolo. Ci sono giornalisti, per esempio, manca una scuola di giornalismo di guerra, era una cosa di cui parlavamo con Locatelli e Steinman, perché non ci si rende conto che con le tecniche moderne un giornalista che firma un po' troppo una casa, una chiesa, una roba dove c'è un'artilleria, con la geolocalizzazione sta dando via la posizione. È successo su un video della Rai, non dico di chi, filmò una batteria ucraina, eccetera, il giorno dopo li hanno bombardati e sono morti. Perché il giornalista si è lasciato sfuggire, eccetera. Lì credo che sia anche una forma di sorpasso tecnologico che alcuni giornalisti non hanno. Cioè l'idea che tu fai una foto a una casa e ci sono 5 o 6 persone, ma anche 20 o 30, su internet che riescono a tranquillamente geolocalizzarle, è una cosa che specialmente a inizio guerra era assolutamente impensabile. Ormai adesso, infatti, tutti i video che, tutti, buona parte dei video che devono essere censurati sono totalmente censurati, non c'è un filo d'erbo ogni tanto che non sia sotto watermark, sotto una forma. Sì, l'ha visto, mettono tipo la violina, il blur, queste cose qui. Però vabbè, le leggi anti-video, eccetera, però... È interessante vedere come arriva l'informazione anche in maniera, diciamo, indiretta, tipo soldato ucraino che trova dei fucili a K-74M ripiegabili, no? Potevano essere soltanto di unità biotrasportate russe, quindi... Oppure lo stesso soldato che ti dice abbiamo davanti il 200esimo reggimento X, quindi tu sai che loro sono la 72esima, davanti hanno la 200esima, quindi io ho il mio team mappe che si spulcia a questi video, perché tante informazioni vengono dalle stessi soldati, dalle patch che hanno, dall'equipaggiamento, che ti dicono davanti abbiamo questi, davanti abbiamo... No, ah, perfetto, sono davanti a voi, voi siete qui, loro sono qui. Quindi ricostruisci tutto anche così. Quindi è un lavoro continuativo, tutti i giorni devi spulciare anche solo per aggiornare le posizioni. È una cosa che rispetto alla Seconda Guerra Mondiale ci si basava più praticamente su fonti scritte, tipo i diari, i diari anche delle varie unità, no? Per dire che raccontavano che si sono mossi qui, il villaggio X, eccetera, e così dovevi ricostruire. Però bisogna vedere, cioè ci si affida alla memoria di quello che l'ha scritto e se ha sbagliato il nome del villaggio o se ha mentito non lo sapremo mai. Eh sì, perché molto spesso, questo qui parlo da storico, i diari sono reputati fonte affidabile perché la gente non mente nei diari, però sbaglia. Soprattutto quando ti trovi in una regione, in una geografia che non conosci, è facilissimo. Lo vediamo persino oggigiorno in Ucraina che ci sono paesini a 20 chilometri di distanza con lo stesso nome, contando un attimo la geografia del luogo. Sai quante Nova X ci sono? Sì, Nova Donetsk, Nova Kakovka, Nova Vasilirka. È un attimo incasinarsi. Non hanno molta fantasia in quelle regioni, però... Tra l'altro volevo dire un attimo ai ragazzi della chat, adesso arriviamo con le domande, non vi preoccupate, adesso iniziamo a cagare anche voi, abbiate pazienza. Siamo un attimo... Tra l'altro io avevo una curiosità perché, vabbè, io non sono esattamente dell'ambiente, nel senso abbiamo questo canale insieme, mi interessa moltissimo la storia, eccetera, seguo la vicenda ucraina un po' come tutti, magari con qualche informazione in più, però non sono proprio dentro. E mi è venuta questa curiosità perché sai che ultimamente sta spopolando anche molto il tema dell'intelligenza artificiale e di quello che riesci a fare anche a livello di manipolazione delle immagini. Perché volevo chiederti, a te che sei così dentro, vi è già capitato di ritrovarvi a, tra virgolette, debancare dei video, delle immagini che... Sì, ci è capitato di ritrovarvi dei deepfake. Ci sono dei deepfake. Ma guarda, oggi è successo, eh? Ah, sì? Sì, sì, guarda. Vedi, caschi proprio a pennello. Hanno utilizzato un'immagine di un Leopard 2 tedesco utilizzato dai turchi, distrutto in Siria, montato su un video di oggi, cambiandogli la colorizzazione e spacciandolo per un Leopard 2 ucraino. Proprio oggi. È tra le mie fonti nell'ultimo video che abbiamo fatto. Le fanno questo genere di manipolazioni. E come le debanchi queste cose? Cioè, come vai a risalire al fatto che non ha cazzate? Non siamo da soli, nel senso che l'OSINT non è solo il mio team. Ci sono tantissimi team in giro per il mondo che fanno questo. E quindi appena esce qualcosa, tutti si mettono lì a vedere. Qualcuno ha trovato l'immagine del Leopard. A volte lo puoi trovare anche con i Google Image. Ci si fa anche con gli algoritmi. Nel senso che quel particolare immagine... Hai mai preso un'immagine caricata su Google Image e ti propone tutte altre immagini simili? Ah, sì, sì, è chiaro, certo. Era un metodo molto rudimentale one-on-one per fare questo genere di cose. Però io mi ricordo che uscì il video di una foto di un Abrams distrutto e io senza neanche chiedere al mio team che già mi puzzavano di marcia, lontano da un chilometro. Ho preso l'immagine caricata su Google Image e tempo dieci scrollati di pagine e ho trovato un articolo di Abrams distrutto in Iraq. Era quello. Ma a volte è il sensazionalismo che paghi e spinge anche i giornalisti e anche chi giornalista non è a spingere queste storie senza provarle, creando una quantità infinita. Quello è il problema del sistema autoritativo giornalistico. Il giornalista X di fama, X, ha scritto, quindi è vero. Completamente diverso dal metodo storico. A noi non ci ne frega nulla di chi l'ha detto o mi dai la fonte. Esattamente. Non ci prendiamo neanche un caffè. Quindi è la base del problema ecosistema. Infatti. Infatti non mi sono mai piaciuti i libri di storia dei giornalisti. Hanno un metodo tutto loro per raccontarla. Un non metodo. Un non metodo, vero. Però sanno mettere colore, forse. Dove non dovrebbe. Ma tra l'altro, già che siamo in tema, la butto lì. Perché poi in realtà è una domanda super banale. Però, sai, a noi ad esempio ci è capitato anche nelle vecchie live che ci chiedessero anche di parlare magari di geopolitica, anche questioni attuali come l'Ucraina. ci siamo sempre un po' defilati perché un po' non è nostro un po' insomma è facile dire cazzate. Mettiamola così. Per cui lo chiediamo a te che sei se vuol dire anche un po' ormai un esperto dell'argomento come sta andando? Cioè come sta andando questa guerra effettivamente? Ha ormai più di un anno dal suo inizio? Male. Per entrambi. Male per entrambi. Siamo più a livelli di passion dell'offensiva sulla Somma che non ha una guerra moderna. È una lezione interessante di cui discutiamo spesso con i militari. Due eserciti professionali con il livello di attrito che c'è oggi decadono molto velocemente. Si ritornano gli eserciti di massa. Questa è una cosa che noi dovremmo valutare molto in Occidente. Il livello di attrito ti porta a ritornare a delle tattiche molto elementari. La trincea l'artiglieria. Infatti sai che leggevo da qualche parte con elementi degli sprazzi di elementi tecnologici non mi ricordo chi diceva infatti non mi ricordo chi diceva che paradossalmente questa guerra in Ucraina è un conflitto del secolo scorso cioè tipo stile prima guerra mondiale combattuto con le armi moderne. Cioè come approccio confermi questa Sì con un po' di dottrine buttate qua e là russe qualcosa insomma con un po' più di libertà operativa per quanto riguarda gli ucraini che ricorda l'aufrag tactic tedesca perché insomma hanno utilizzato più tecniche in Nato che vanno a riprendere quel tipo di libertà però generalmente sì ancora oggi quello che abbiamo visto oggi erano i russi dalle trincee posizioni preparate che ricordano Kursk e gli ucraini che bene o male non hanno fatto né un'offensiva né una ricognizione in forza ricordava i camp gruppe i gruppi di combattimento ma invece cioè secondo te quali possono essere le prospettive cioè quanto siamo lontani da una pace realmente allora intanto si sono bloccate le mani a vicenda col fatto che Zanetsk ha fatto una legge a parte che loro le leggi se le fanno se le disfanno anche i russi però al momento diciamo a livello formale c'è una legge che dice finché c'è Putin non si fa nulla dall'altra parte c'è Putin e dice se non vi riconosciete tutto non se ne fa niente ora questi quattro fanno parte della Russia che spazio di diplomazia vuoi avere in quel senso lì ma si deciderà mano militare e si deciderà nel senso che nessuno dei due lati può vincere militarmente questa guerra e ottenere esattamente quello che vuole quando entrambi realizzeranno questa cosa ci saranno delle spirali per parlamentare sembra una prospettiva molto lunga ancora si parlava di una guerra per oggi si prendono secondo me si prendono per stanchezza per accettazione di impossibilità di ottenere esattamente tutti gli obiettivi che poi non sia giusto perché l'Ucraina dovrebbe insomma riprendersi i suoi territori secondo le leggi internazionali però la fattibilità è questa insomma ovviamente non credo che faranno mai la pace davvero ci vuole tanto per sanare questo genere di ferite quindi probabilmente arriveranno a un accordo quando accetteranno il fatto che nessuno dei due può tenere una vittoria militare e si scenderà a una situazione tipo Corea Corea quindi sei per la teoria coreana della risoluzione si sull'Ucraini magari i russi consentono a far entrare in Europa ma con un trattato che dice che non possono entrare nella Nato ma con una garanzia che se i russi attaccano comunque altri paesi li proteggono perché ovviamente quelli non si fidano più cioè i russi hanno stracciato tutta una serie di trattati che nemmeno Hitler e quindi la situazione è quella cioè ti fideresti di qualsiasi assicurazione russa dopo tre trattati cioè quello di Budapest quello del 97 e quello del 2007 di Mutua è sempre l'amicizia mi ricorda qualcosa da fratelli brutte le guerre così e poi c'è questo tema di cui si sta parlando molto in questi ultimi giorni di questa fantomatica entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea che se ne parlava già l'anno scorso che però non ha i parametri nemmeno i parametri democratici cioè parametri che ci siamo dati noi sì sì no assolutamente ma anche a me sembra assurdo però vedo che lo stanno spingendo con una certa cioè ci sono personaggi di rilievo che stanno parlando di questo aspetto quindi o li stiamo pigliando per il culo palesemente oppure non so lo vogliamo fare davvero perché è come una spinta per dire ai russi guardate che comunque vada come vada ormai ve li siete fatti talmente nemici che inevitabilmente verranno da noi acconsentite noi in cambio vi diamo qualcos'altro magari l'accordo che non ci saranno basi NATO installazioni militari o cose del genere bisogna sempre pensare a cosa servono questi messaggi se hanno sempre se c'è sempre sotto un messaggio per qualcun altro esempio quando Xi Jinping ha detto io sono d'accordissimo sull'integrità territoriale dell'Ucraina hashtag questo vuol dire anche per Taiwan c'è sempre secondo fine c'è sempre c'è sempre perennemente nella storia come nella politica e nella geopolitica c'è sempre un doppio fine e l'abilità è trovarlo perché molto spesso se non lo si trova sembra senza senso ed è questo il problema per me anche nell'ottica moderna ovvero quando le persone non capiscono il doppio fine non capiscono il senso diventa frustrante e quando una cosa diventa frustrante che non si capisce si abbandona cioè è un problema anche di preparazione della delle folle è una cosa che voglio andare a studiare indietro poi quando c'è tempo sulla seconda guerra mondiale la polarizzazione del pensiero se all'epoca tutti i tedeschi pensavano assolutamente sì è vero che i media erano più controllati non c'era così tanta libertà di informazione di fondi indipendenti eccetera eccetera però sarebbe interessante fare uno studio di questo tipo capire quanto il pensiero dei vari popoli fosse veramente fossilizzato sulla visione dei leader o se molti invece la pensavano in maniera estremamente diversa in Italia lo sappiamo siamo spaccatissimi sulla questione di questa guerra vabbè ironicamente noi siamo tra virgolette midi indipendenti non potremmo esistere tanti anni fa non parlo neanche di 200 anni fa anche di 50 ed è l'interessante del mondo moderno cioè del mondo dell'internet e dell'informazione e mi volevo collegare hai detto un passo indietro e a una domanda che è arrivata a quanto indietro vorresti andare affrontando la storia cioè tu ti reputi una persona specializzata non più indietro del napoleonico per il napoleone quindi il napoleonico l'ho studiato tantissimo la guerra franco-prussiana la prima guerra mondiale la seconda le guerre insomma della piccola intesa intermezzo guerra sino-giapponese guerra di Etiopia greco-turca di Spagna eccetera già se mi fai andare indietro guerra di 30 anni comincia ad essere un po' no sì qualcosa poi dipende anche cosa si intende per specializzazione io c'ho degli standard sì no 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 non per tirare non con standard all'americo non mi ritengo un esperto di lei quanto ma ho letto cinque libri per dire per me non vuol dire niente cinque libri perché dipende quanto hai letto capito assolutamente il miglior maresciallo di Napoleone sono combattuto fra Davout e Murat secondo te quanto cioè sai si dice spesso che la storia serva a comprendere meglio il presente e soprattutto come dicevi anche tu prima parlando di geopolitica anzi mi azzardo a dire è essenziale conoscere la storia quanto meno moderna dei paesi coinvolti perché se no ci capisci niente sembra che la gente pazzisca faccia le guerre ciao ma secondo te a livello storico quanto cioè da che punto è fondamentale avere una buona conoscenza per comprendere il presente perché comunque sai no duemila tremila quattromila anni di storia cioè magari i babilonesi non sono proprio essenziali se non li sei alla perfezione puoi comprendere il presente ugualmente no direi che quei popoli sono anche scomparsi ci sono gli eredi tipo vabbè l'impero persiano per dire non ha una lunghissima storia uno dovrebbe capire anche il zaurastrismo per capire insomma quel popolo lì però ci sono popoli che sono più giocati a noi cioè non c'entriamo nulla con i romani sì abbiamo queste cose qui ma non ci sono quasi parallelismi se non dal punto di vista del diritto cose del genere no cioè con gli etruschi cosa c'entriamo in comune con gli etruschi ma è poco non farti ingannare dai toscani non c'entriamo molto con gli etruschi e quindi bisogna vedere ci sono dei popoli che hanno una storia molto più vicina e più marcata i polacchi i francesi secondo me gli inglesi che sono più collegati con la storia dei popoli guarda l'Ucraina non so quanto gli ucraini siano i cosacchi di Zaporoghe in quel senso credo che si rifanno più agli ucraini d'inizio novecento quando tentano di liberarsi quindi quelli di Makno quelli di Petliura credo che loro si rifanno a quello non è il caso che si rifanno a Petliura si rifanno a Bandera queste cose qui quindi non credo che riescono loro stessi ad andare indietro alla Russi di Chieve come fanno i russi o cose del genere quindi è tutto relativo di popolo in popolo proprio questa è la parte interessante capire quanto la storia di un popolo è determinante i polacchi hanno paura fottuta dei loro vicini ad esempio un paese completamente piatto come i russi in mezzo a Russia Austria e Prussia se non crei una forte identità nazionale finisci per sparire e la Polonia è sparita 123 anni dopo la spartazione cioè un bellissimo una bellissima citazione sulla Polonia in inglese che la definisce The Playground of God che è il luogo dei divertimenti di Dio che è un po' un campo di Marte esatto un campo di Marte proprio ed è la bellezza dello Stato Polacco cioè ha questo strano spirito un po' nato dalla battaglia anche loro sono forgiati la battaglia o combatti per la tua esistenza ma ti faccio un altro esempio per esempio diceva Montanelli gli ebrei gli ebrei sparsi in giro per il mondo per duemila anni non avevano un territorio loro insomma finché non è nato Israele però hanno sempre difeso la loro tradizione quindi non è il territorio è la narrativa che ti crei che fa la differenza quello che fa la differenza è una cosa interessantissima e parlando scusami parlando di narrativa ma anche di cultura quanto dovrebbe essere amplia per te la storia imparata a livello geografico perché questo qui è molto interessante perché moltissime persone che ad esempio finiscono il liceo ma anche finiscono l'università ma questo è un altro discorso a parte e la storia viene definita come eurocentrica che è quasi un è la palissiano è ovvio che è eurocentrica perché siamo siamo europei per te quanto dovrebbe essere larga cioè molto spesso nei libri di storia io ne ho davanti un paio adesso c'è sempre tipo il capitoletto nel frattempo in Giappone nel frattempo negli Stati Uniti beh sai è difficile occuparsi di tutto proprio con la parte problematica ma se andiamo a vedere per esempio la guerra sino-giapponese probabilmente si potrebbe anche retrodattare la seconda guerra mondiale a quello è da lì che cominciano a muoversi le cose all'espansionismo giapponese la guerra sino-giapponese ma uno può andare indietro ancora di più puoi andare a Tsushima quando i giapponesi hanno dimostrato agli altri asiatici che potevano battere gli occidentali cosa che all'epoca era completamente impossibile io parlo più di filoni storici tipo il filone della sfida franco-tedesca nasce nel napoleonico facci caso forse anche un po' più dietro Federico il Grande per dire Federico il Grande napoleonico guerra franco-prussiana prima guerra mondiale seconda guerra mondiale è quel filone lì i due paesi centrali che combattono tra di loro per l'egemonia sull'Europa ecco questa cosa è interessante sono dei filoni che nascono e muoiono in una certa sfida un altro filone potrebbe essere che so le guerre inglesi-olandesi o Inghilterra contro Portogallo e Spagna no? cioè le guerre imperiali proprio atlantiche atlantiche colonialismo e cose del genere colonialismo cioè quello di Cortes sì esatto un pochino più antico quello un po' più antico no ma infatti ti do ragione perché io avevo per le mani un testo io mi occupo appunto noi occupandoci di storia un pochino a livello non così profondo ci guardiamo intorno su come la scrivono appunto facciamo un po' di lavoro anche di metastoria e di storiografia e ho avuto per le mani un bellissimo libro della Cambridge che ha un libro liceale che analizzava la storia della Russia non come facciamo noi quindi spezzandola pinivi il capitolo non lo so su sulla Belle Epoque se non sbaglio iniziava dalla guerra russo-giapponese finiva con la rivoluzione d'Ottore cioè faceva tutto e non interrompeva mai che era un metodo di affrontare la storia molto diverso da quello che facciamo noi che è un po' spezzettare farà fettine e poi la mente dello studente devo un attimo ricostruire motivo per cui certi eventi che sono vicini nella storia ci sembrano lontanissimi perché li facciamo in capitoli differenti ed è interessante cioè questa teoria del filone è molto apprezzata secondo me è meglio che non spezzare dare un piccolo infarinamento di ogni cosa e poi uno non ci sta dietro tipo storia del Giappone non so voi siete più giovani di me ma io non sapevo niente di storia del Giappone invece è fondamentale per capire la seconda guerra mondiale e che secondo me è lontano da noi non ci interessa ma te dici eurocentriche io direi di più occidentalcentriche sì anche perché molti si scordano per esempio qual è il fattore più determinante che ha indotto Hitler a dichiarare guerra alla Russia oltre al fatto che era convinto che c'era un accordo con gli inglesi il motivo per cui non si arrendevano la guerra fino russa perché vedendo come era andata male l'offensiva vedendo valutando i russi come estremamente scarsi quindi quella piccola guerra ha avuto degli scontri enormi un altro è il discorso che i russi presero un pochino della Bessarabia che non era negli accordi ecco sono un po' rubacchiata ecco sono questi piccoli fattori che poi hanno perché noi si parla di storie ma poi la storia viene determinata dai leader che vengono influenzati anche da piccoli eventi sono umani cioè è questa una cosa è un elemento che è impossibile da determinare un po' di caos ma si è svegliato male quella mattina no? cose del genere infatti qualcuno chiedeva in chat di Suvrov non so a quale Suvrov ti riferisci maresciallo Suvrov o la scrittore Suvrov cioè quello delle fantateorie dove erano i russi che volevano aggredire i tedeschi che poi era la balla che gli avevano avuto ai suoi generali perché Suvrov è un sparacazzate insomma di livelli infiniti io ho fatto una serie di video che si chiama Libri di Storiografia Militare dove raccontavo insomma anche alcuni autori un po' un po' così come Irving come Trizzino no? Romers quindi un po' più strani qualcuno ha avuto anche qualche processo Irving meritato diresti? ecco beh più che meritato dell'Olocausto stavo buttando un occhio alla chat c'era Bernardo Bernardo Di Gregorio che chiedeva una domanda per Mirko riprendendo il titolo della live frase celebre della saga di Fallout quanto è probabile uno scenario simile nel futuro? domanda beh molto difficile togliere la guerra dall'elemento umano c'è qualcuno che diceva che la guerra è praticamente la pulizia del mondo no? un elemento di sanità la guerra fa anche avvenire un acceleramento accelerazione tecnologica in partici caso è enorme è quello che porta molto più avanti di qualsiasi altra cosa necessità guzzale in genio no? in un certo senso e quindi è interessante vedere come è molto difficile per noi togliere l'elemento umano qui entriamo però in teorie un po' più strane tipo civilizzazioni tipo zero tipo uno tipo due no? nel senso superare il livello del nucleare no? cioè il rischio di distruggerci nell'era nucleare per poi passare all'era dopo cioè quella della colonizzazione planetaria e poi diventare una specie interplanetaria sogno sogno nel cassetto guai non so hai citato l'imes e mi ricordo mi ricorderò per sempre perché stavo scrivendo la tesi in quel periodo quando poco prima dell'inizio della guerra stavo finendo la tesi poco poco prima dell'inizio della guerra in Ucraina appunto l'imes fece uscire un numero chiamato lo spazio ci serve per farci la guerra ed era tutto su questa teoria che a me piace tantissimo personalmente ci troviamo di nuovo di nuovo a vaibare però è brutto vedere ricadere nei vecchi costumi e collegandomi alla domanda quella di Fallout 4 sarebbe anche credo sulla prospettiva di uno scontro nucleare su un DEFCON motivo per cui ha ragione Elon Musk che dobbiamo colonizzare altri pianeti se non vogliamo rischiare di farci fuori da solo famosa frase di Einstein hai mai visto un topo costruire una trappola per topi la quarta guerra mondiale verrà combattuta con bastoni e pietre quindi il vecchio Einstein quindi meglio colonizzare altri poi magari finiamo come Honda o Pat Labora dove ci combattiamo su altri pietri fra mega corporazioni e questa è un'altra lezione interessante di questa guerra hai notato come le mega industrie private hanno un impatto enorme Starlink Microsoft Amazon per quanto riguarda la parte cibernetica digital Blackrock ma anche la PMC Wagner che è privata prima compagnia militare che batte un esercito regolare nella storia nella storia anche questa cosa è interessante e che cosa ci dice questo secondo te perché mi sembra che sia comunque un primato assoluto il capitalismo la potenza che possono assumere certe industrie nel capitalismo può superare i poteri degli stati il primato dello stato potrebbe essere potrebbe venire meno rispetto a dei conglomerati industriali che è un bel rischio insomma beh sì visto che il loro scopo è il profitto e soprattutto la democratizzazione a quel punto diventa molto relativa anche per vabbè entriamo in discorsi molto complicati un'azienda non è un essere umano e non si assume responsabilità non è un'etica non è una moralità la chiuderei con una citazione da un film Demolition Man in cui vengono non so se lo conosci Mirko probabilmente sì in cui vengono citate le famose guerre le guerre industriali fra McDonald's Domino è il motivo per cui tipo mangiano solamente Domino's pizza in quel mondo perché Domino ha vinto la guerra corporativa ecco come era chiamato che vabbè veniremo così ecco io non vorrei che il nostro futuro fosse un futuro distopico tipo quello di Blade Runner eh io sono un grande admiratore però bello ma non ci vivrei esatto bello ma non ci vivrei oppure una cosa di cui non guarderei il film anzi non leggerei il libro ma guarderei il film esatto bellissimo da vedere da leggere un po' un po' più lungo colgo un po' di domande dalla chat c'è USA Country Humans che ce lo chiede da un po' questa è una domanda per te Mirko cosa ne pensi degli attacchi nella regione di Bangorod ma ho trovato propagandistiche nel senso dal punto di vista militare non hanno molta efficacia poi sono comunque etero diretti dagli ucraini può servire se i russi devono distogliere truppe da altri fronti ma non hanno una grande efficacia quindi è servito il fatto che ne parliamo che abbiamo smesso di parlare di Bakhmut direi che dal punto di vista propagandistico ha avuto il suo effetto mentre l'Alderman chiede la storia è influenzata più da fattori produttivi economia società cultura o dai leader di turno che questo quante ore abbiamo oddio qui entriamo in delle teorie molto lunghe comunque ci sono grandi leader che si dice abbiano fatto la storia nel bene e nel male però nel senso un conto è la facciata un conto poi sicuramente ci sono leader che lasciano un'impronta enorme napoleone ha lasciato un'impronta enorme non soltanto nella Francia ma anche nel resto dell'Europa un po' morta un po' morto il discorso delle monarchie lo hanno battuto le monarchie ma poi sono morte ha dimostrato qualcosa ha lasciato un germe pensiamo eh sì qui ti cito v per vendetta le idee sono prova di proietti esatto esatto qui leggo un po' di domande vai 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 il tuo periodo storico preferito ma secondo me è scontata grossa fascinazione per il napoleonico i miei libri preferiti sul napoleonico sono quelli di Max Gallo che sono un po' romanzati sono un po' divertenti ecco e io invece ho una domanda più sul curioso che sul tematico una domanda che arriva sempre questa da discord molto diretta ti sei fatto molti nemici punto di domanda stavo per dire una frase ma me la mangio oh no perché c'ho la camicia nera quindi oh no meglio di no ma non sono uno che viene scalfito onestamente da dalle chiediti io mi concentro cioè se i miei video hanno il 98,7% di ratio medio di like perché dovrei concentrare i miei sforzi e il mio tempo per il restante 1,3 ma a volte sei più forte di noi mi preoccupi no sono uno che delle offese non interessa nulla cioè se mi mandi a quel paese non mi scalfisce perché io ritengo questo per essere offesi è perché tu accetti l'offesa certo e io accetto l'offesa solo da qualcuno che rispetto cioè mi sento costito da qualcuno che rispetto non conosco non mi fanno freddo sì no vabbè diciamo che la classica persona che ti scrive il commento che leggi le prime tre righe capisci che proprio come dire la sostanza di quella critica non sussiste è quando te l'articolano bene che magari può far male esempio ultima live un tizio che ha scritto a otto mesi che ci racconti di questa ma io veramente sono di quelli che dice che la faranno molto più perché non erano preparati c'è gente che commenta che poi si capisce che non sa fruire cioè non ha fruito dei contenuti perché si dice delle cose del genere palesemente infatti la mia commenta dice ma che cavolo dici non l'ha mai detto quindi a un certo punto è la mia commenta che interviene da sola però io sono anche molto tollerante tipo l'altro giorno i miei mod hanno bannato un tizio che mi ha detto vero che ha sparato una cazzata una vagine i miei mod vabbè era più pesante di quello ma se mi vuole offendere che mi offenda pure anche nel mio telegram certo beh sì sti cazzi abbiamo ancora una politica molto sì noi purtroppo parliamo cioè siamo stati per un certo periodo di pubblicazione proprio nel fango passami il termine del nazismo e del fascismo adesso basta questo video sarà cancellato e quindi abbiamo ricevuto una quantità di commenti devastanti devastanti però appunto come te diciamo che un commento di critica deve deve avere una ragione d'essere deve essere anche rispettabile perché se è qualcosa così noi forse siamo un po' troppo americani nel senso che non non bagniamo nessuno a nostro torto nostra ragione io ho un paio di regole se mi offendi ci ho piacato se offendi i miei ospiti noi non abbiamo ospiti quindi quando offendono me o fra siamo vabbè dai a posto a posto poi se avessimo tanti ospiti forse avremmo un paio di paletti però io ho ancora gente sotto i video delle tue dice non è vero che abbiamo usato i gas cavolo ti ho messo i bollettini del duce i bollettini dove dà l'assenso per l'utilizzo a Graziani c'è più che mettiti delle prove allora è quello il discorso c'è nel momento in cui io capisco che l'interlocutore non prende atto di una fonte non ci sono le basi per discutere rifiuta l'entità stessa del discorso che discorso vuoi avere se no e mi collego opinionismo immagino al bar eh sì di gusto mi collego per una domanda si parlava d'Etiopia quindi mi collego così paese preferito paese preferito ma un po' perché da ragazzino ero fissato con la Wehrmacht quindi la Germania ovviamente da ragazzino al suo fascino guarda una cosa interessante da ragazzino il militarismo attira e questa è una cosa su cui ho riflettuto molto quando ero ragazzino vedere le armate tedesche che avanzavano col passo dell'oca queste cose qui attiravano molto quando non conosci bene quello che c'è vedi solo l'elemento militare non conosci ancora quello che c'è dietro e questa cosa mi ha fatto riflettere quanta gente si è fatta a bindolare all'epoca era fascinante anche l'espressione di potenza sì ma infatti perché il ragazzino vede la potenza poi vede anche credo soprattutto per la Wehrmacht per la Germania vede la ribellione ironicamente cioè qualcosa che non è stato che ai ragazzi ai giovani piace vedere quello che non è stato quello che è diciamo un'utopia ma più una ucronia poi dopo studiando ti fidi più per l'armata rossa perché dici questi sono morti in 26 milioni sono riusciti a combattere fino alla fine ti fa quasi più effetto la foto della bandiera sul Reichstag che le armate le armate tedesche che avanzano io infatti è un libro di propaganda però ho avuto il piacere di leggermi Stalingrado di Grossman e è un libro appunto scritto da un giornalista di guerra però un me più giovane non l'avrebbe apprezzato perché parlava appunto dell'armata rossa quando diciamo pure io ho avuto il mio periodo conoscere i carri armati tedeschi si parte tutti a un certo punto in quel modo però allo stesso tempo con la maturità viene anche un altro punto di vista che ad alcuni purtroppo si può dire non viene mai rimangono su 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 quelle posizioni però è anche il bello del cambiare del leggere tanto dell'affrontare nuovi punti di vista guarda d'acqua una domanda per me che io vedo un enorme paralismo tra la controoffensiva l'Ucraina e la battaglia del sostizio del 1918 austriaca contro l'Italia che ha perso te cosa ne pensi io ne vedo più su Kursk eh sì ucraini che devono fare un'offensiva in un'opposizione estremamente conosciuta e citofonata con i russi che si preparano in profondità fra l'altro ho fatto non per farmi auto celebrazione ma avevo fatto una lunga conferenza a Milano sui paralismi storici ehm tra questa guerra e il passato ed era venuta una molto interessante la battaglia di Suomo Salmi la battaglia della guerra fino russa riguardo come l'Ucraina sono intervenuti sulle colonne russe che da Belgorod erano andate fino a Kiev eh perlomeno la tecnica la tecnica era la solita quindi è interessante vedere i paralismi ma gli stessi paralismi storici no? se uno va a vedere quello che faceva facevano i vari marescialli russi davanti a Napoleone che si ritiravano in profondità beh gli ucraini hanno fatto lo stesso non hanno combattuto sul confine come hanno fatto i polacchi sbagliando hanno assorbito i russi nelle profondità dell'Ucraina finché praticamente l'elastico della logistica non si è strappato i russi sono dovuti tornare indietro questa è una cosa interessante utilizzare contenuti le stesse tattiche è una cosa interessante degli ucraini che hanno una parte nostra e una parte loro qualcuno potrebbe dire stesso popolo ma fermiamoci fermiamoci qui ho una domanda di Phoenix Voice Edoardo il nostro collaboratore che secondo me è abbastanza interessante lui si ricollega a quello che dicevi prima cioè che comunque tu e il tuo team siete comunque in contatto anche con familiari di persone che sono effettivamente lì sul campo o di persone che sono addirittura direttamente lì sul campo lui chiede essere in contatto con i familiari di chi adesso sta in trincea che effetto fa perché poi effettivamente non è facile spesso mi mandano foto anche di gente che è stata ferita e cose del genere infatti vedi uno vedi io leggo anche le domande cattive Mirko perché non citi mai le fonti nelle tue labio a parte che le fonti sono tutte sticcate sotto al video non so di chi cavolo parli le fonti private cioè nel senso giornalisti che mi dicono cose in privato o capitano dentro la 93 secondo me io ti posso dire chi è nome e cognome non può darmi le informazioni che fa le dà alla figlia che poi le passa a me perché la figlia io non sono in convinzione diretta a colui è la figlia che mi passa le informazioni magari non lo sa la figlia magari ammira il mio lavoro e mi passa questo genere di informazioni primo lavoro anche per i giornalisti mai dare la fonte poi comunque se vi racconto cazzate lo vedete mi sono fatto un video un mese fa perché sapevo dove erano i leopard in ucraina già da un mese e mi sono fatto un video apposta perché quando scopriamo offensiva no belli il video con il giornale c'è la data c'è tutto perché non lo posso dire esatto prima che sono rapporti di fiducia un mix di interpol gru eccetera venga a bussare alla tua porta io ho 11 anni sono molto appassionato di prima e seconda guerra mi dico secondo i tedeschi potremmo vincere la seconda guerra mondiale guarda ti consiglio lì si chiama infografica della seconda guerra mondiale che con dei grafici ti fa vedere che la produzione per esempio di petrolio nel mondo era al 92% in mano di alle altre se queste sono le condizioni di partenza o l'italia che aveva 54% di produzione agricola e solo il 12% delle industrie usavano elettricità e lo fai una comparazione con la capacità industriale insomma del blocco degli alleati può essere il più grande tattico stratega del mondo ecco questa è un'altra cosa che si sbaglia sempre i giornali tedeschi erano dei pessimi strateghi erano degli attimi tattici perché la dottrina di Britsky è tattica non è una dottrina da strategia perché lo scopo è tattico sfondare la linea e circondare le unità e farle arrendere mentre quello dei russi è quello di sfondare la linea e continuare ad andare avanti per impedire all'avversario di riorganizzarsi quindi arrivare ai centri logistici ai centri di comando queste sono delle piccole finezze che però spesso non vengono raccontate è un po' come tutti i giochi di strategia ma che in realtà sono tutti tattici sì sì cioè c'è un po' 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 di strategia strategici e devi metterli con la plancia gigantesca e passarci i giorni Mirko qual è il tuo impero preferito? Oddio impero preferito questo è questo è difficile avere un impero preferito eh eh ma guarda ci siamo passati noi siamo passati per il papa preferito l'imperatore preferito il monarca italiano impero romano una domanda da nostra live impero romano via sempre nel cuore marca Aurelio se mi chiedete tu ma stoico mamma e ti volevo fare una domanda raccolta dal nostro amico Guido che è una domanda curiosa che probabilmente non ha una vera risposta una guerra USA-Cina avrebbe anche una diciamo un'evoluzione verticale quindi si si potrebbe combattere nello spazio anche? è un po' presto è un po' presto si combatterà nel mondo digitale quello di sicuro si combatterà con l'intelligenza artificiale si combatterà con i deepfake si combatterà con i droni si combatterà sul mare non molto in terra anche perché le capacità americane di proiezione di forza rispetto alle unità cinesi sul posto non gli consente comunque agli americani di spostare tutto quello che hanno solo per occuparsi dei decine di motivo per questa una grande questa accordata di paesi per fare contenimento perché comunque gli americani hanno degli impegni globali quindi sarà una guerra secondo me durerà poco nel senso lo sconto durerà poco e sarà durissimo si faranno male della madonna ma poi a livello di capacità di knockout dell'avversario l'uno dell'altro è una guerra che non puoi vincere qui mi collego a una domanda secondaria mia in caso di guerra fra queste due ormai potenze superpotenze ultrapotenze eccetera eccetera si potrebbe creare il presupposto per l'ascesa di un nuovo blocco di un qualcosa di diverso oppure ormai ci siamo cristallizzati e la rimaniamo qui entriamo nella psicostoria eh sì però un po' di speculazione che piace dai psicostoria cioè la morte di un impero che era poi sperato all'impero romano per poi cercare di prevedere quello che verrà quello che verrà dopo ma secondo me c'è una formula di base che si può applicare alla storia tanto più eravamo divisi in tribù piccoli feudi tanto più ci combattevano tanto più tendiamo a unificare tanto meno combattiamo ci avete fatto caso cioè più unificiamo meno combattiamo sì va a vedere quando c'erano i piccoli villaggi che si attaccavano fra di loro va a vedere periodo dei comuni la tendenza è per carità le guerre sono più violente perché ovviamente le capacità sono ben superiori ma sono sempre meno frequenti però non è un percorso lineare cioè la storia dell'uomo non è sempre andata verso la creazione di entità statali o nazionali sempre più grosse cioè sono cresciute poi sono crollate sono ricresciute cioè non so come dire è un percorso molto accidentato non so se poi effettivamente arriveremo mai ad una sintesi generale di tutto questo ma sai l'impero romano era comunque l'impero romano con delle colonie con delle regioni con insomma l'unione europea no sono delle enti statali alleate tra di loro in cooperazione commerciale il buon commercio di Montesquieu no? che potrebbe essere la soluzione ai mali del mondo il pacificatore di popoli ecco però la tendenza è quella essenzialmente qualcuno chiedeva ma cosa ne pensi della lega araba lo vedi è una tendenza di quelli i briggs altra tendenza di quel tipo poi non è detto che questi blocchi non si faranno una guerra devastante dopo per magari nasceranno dei blocchi sempre più grandi che ci sarà solo un blocco e allora magari come singola entità si andrà a colonizzare altri altri pianeti perché non ci sarà da farsi la guerra se un blocco unico tutti fanno parte di quel blocco sì magari c'è sa ancora l'Italia ma fai parte un po' come della federazione dei pianeti terrestri esatto di star trek esatto che bellezza un futuro come star trek si può solamente sognare senza soldi esatto solo onore no scienza cioè vivi per cosa vivi per per la scienza cioè per me il mondo utopico ideale è quello non hai voglia di fare un cazzo e vabbè la casa la luce da mangiare ce l'hai esatto e invece c'è chi vuole dedicare tutta la sua vita alla scienza all'evoluzione all'esplorazione che è una cosa che abbiamo perso purtroppo che è proprio l'esplorazione che ovviamente la terra quella è cioè ci sono gli oceani ci sono quello rimane però è una cosa che si è persa l'esplorazione che era una delle dei motori anche della storia e lì bisognerà aspettare come hai detto te qualcosa di molto grande che ci porti di nuovo un po' un po' fra le stelle però qui si va in panta politica panta scienza direttamente e l'ultima domanda della lista di discord così sono felici tutti domanda ma da o è sordio perché naturalmente non citi mai le fonti sono scritte sotto 20 non so non c'è una pena ti faccio un disegno guarda ti faccio un disegno tu prendi il video c'è il rettangolo scritte sotto me lo scrivo sulla mano e risposta che dovrebbe essere lunghissima ma la teniamo molto molto breve uno dei nostri iscritti chiede cosa ne pensi personalmente della performance sovietica nel corso della seconda guerra mondiale io per forza militare la performance militare sovietica durante la seconda guerra mondiale beh più che opinioni a me piace usare i numeri così non è una colpa mia è un metodo un po' da fuggiaschi basta guardare la delizio nel momento in cui la marea per utilizzare un termine di Lidlart di Sir Basilio cuore leggero quando la marea era già in riflusso quindi Stalingrado era la main eccetera il land lease era semi ininfluente era all'otto dieci per cento per dire e i tedeschi avevano già perso quella guerra praticamente erano già nella fase di ritorno il land lease ha accelerato la guerra per i russi di un paio d'anni due anni un anno e mezzo difficile da valutare questo genere di cose però l'avevano già vinta in quel senso tutti i calcoli tedeschi erano completamente sbagliati infatti il presupposto era simile a quello di Putin non solo calcio all'edificio e tutto alla porta e tutto il marciascento dell'edificio verrà giù non proprio e qui infatti tu hai citato il land lease che so che è un argomento che è molto è molto amato è molto amato anche adesso perché è stato usato in una delle forme di propaganda parallela in cui si sono fatti tutti specialisti di seconda guerra mondiale e dato che ogni notizia deve essere un po' rimaneggiati il land lease è diventato l'unico motivo per cui l'unione sovietica ha vinto e quindi la Russia ha vinto solo per quello che è una delle grandi tanzane è matematico io ho usato i di West National Archives i dati americani che che dicono che dicono accelerato ma se i tedeschi avrebbero già perso Stalingrado il land lease a quell'epoca era bassissimo ma poi anche nel totale è bassissimo se tu vai a vedere il rispetto per esempio a quello che è andato gli inglesi spesso non si sa gli americani hanno dato quasi il doppio all'inglesi che non ha i russi di land lease vediamo anche le proporzioni è interessante è vero che in certi momenti i russi avevano tutti i camion tutte le razioni di cibo le locomotive mandate dagli americani ma per i tedeschi ormai era diventato impossibile vincere contro i russi cioè i russi alla fine seconda vado a memoria avevano mobilizzato quasi 27 28 milioni di uomini eh sì circa quel numero mi ricordo anche io spanno mi ricordavo fra i 25 e i 30 milioni quindi giù in quella in quella cifra impressionante davvero impressionante se ti fermi a pensare ai numeri soprattutto perché sono numeri che tra l'altro oggi cioè non si vedono più neanche lontanamente e soprattutto all'epoca in proporzione a quella che era la popolazione erano dei numeri ancora più spaventosi ancora più spaventosi non so sì ora si combattono con gli eserciti molto più piccoli che più o meno dovevano coprire gli stessi territori che una volta erano occupati da milioni di uomini mi dico a te che si aspetta di guerra la vita di un servimento è una guerra beh certo ogni giorno è una guerra andiamo un po' di straggolo dai ma io invece volevo chiederti una cosa spostandoci su diciamo un argomento un pochino più generale un po' più frivolo se vogliamo volevo parlare un attimo di divulgazione perché sicuramente una cosa che ci accomuna è appunto la divulgazione seppur fatta per target diversi per informe diverse eccetera volevo chiederti un parere su questa cosa perché vabbè noi ormai siamo su youtube da un po' di anni negli ultimi due abbiamo iniziato ad avere una presenza un pochino più stabile e ci siamo resi conto anche del fatto che un po' le cose stanno cambiando cioè nel senso quello che facciamo noi come storia sul tubo ma anche quello che fai tu sul canale Parabellum sono cose che secondo me anche soltanto 6-7 anni fa non sarebbe assolutamente stato possibile fare ma non solamente per magari questioni tecniche o altro ma perché secondo me proprio la piattaforma l'ambiente l'interesse anche del pubblico si è molto più spostato dal frivolo che magari aleggia più per dire su piattaforme come possono essere tiktok o anche instagram per dire mentre su youtube ho avuto quasi l'impressione che in qualche modo si vada a ricercare più un contenuto che possa lasciarti qualcosa possa lasciarti qualcosa di più di una risata cioè che possa addirittura insegnarti qualcosa tu ti è capitato di ragionare su questa roba non so sì io spesso seguo Ricky Dufer che proprio fa questo genere la massa continua a guardare trash per carità non vedrai mai un nostro video che va in virale ci troverai un tizio che si fila 50 marshmallow in bocca e poi vomita vabbè su quello non si può però vedo una tendenza al miglioramento anche di chi fa quel genere di cose cioè nel senso una volta la gente ripava le cose da da wikipedia o leggeva direttamente da wikipedia ora la gente se ne accorge richiedono le fonti ma questa cosa la dici te perché chi sei qual è la fonte c'è un innalzamento dell'asticella però questa maturazione avviene all'interno di quella nicchia poi c'è un altro problema di fondo la gente a volte guarda cose di divulgazione o barbero a lezione per sentirsi intelligente invece Ricky Dufer dice una cosa giustissima la buona divulgazione ti fa sentire ignorante sai che cioè scopri cose che non sai che cavolo quante cose devo approfondire se tu esci da quello e sei convinto di sapere cose vuol dire che non ha funzionato beh sì c'è il modo di dire sei nella stanza giusta quando ti senti il più stupido nella stanza quindi quando tutti ti possono dare qualcosa sì ma hai circondato di psicofanti gente ti dice che sei bravissimo cose del genere io mi sono creato in alcune di contesto anche le cose perché è più stimolante una cosa direi di sì assolutamente parlando di psicofanti mi collego a un'altra domanda mamma mia quanti collegamenti Jacopo esatto non voglio che sia a caso hai un posto per te esatto per te Mirko la più grande menzogna politica della storia la più grande menzogna politica della storia così è una domanda che è arrivata in privato ti tiro una una bomba che non hai idea la bomba eccola beh sì una bombetta il comunismo sì te la te la te la declino con una battuta che si facevano da soli in un'unione sovietica un compagno chiede a un altro compagno ma scusa ma dimmi una cosa dopo 40 anni siamo arrivati al socialismo sulla terra e l'altro fa no sarà ancora peggio è dura è dura da accettare ma non perché ce l'ho con loro nel senso dal punto di vista ideologico ma perché utopico perché l'uomo di mezzo secondo me l'ha reso benissimo il film il nemico alle porte quando alla fine c'è lui che dice anche nel mondo socialista sovietico esistono uomini ricchi di talento poveri di talento ricchi di amore poveri di amore che alla fine si rendi ineguali è impossibile rendere tutti uguali rendi ineguali gli uomini della natura stessa che ci ha creati che è il grande dramma tra virgolette per tutte queste ideologie egalitarie Mirko la tua parte polaca da quale zona della Polonia viene Toro un po' Osnan ma ora vivono quasi tutti intorno a Varsavia o a Varsavia direttamente però la famiglia ha origini più dalla parte della Bolinia questa è una domanda interessante la Russia tornerà all'Occidente che credo sia più tornerà la Russia vuole essere Occidente la Russia vuole essere riconosciuta vuole essere occidentale attratta dall'Occidente soffre questa cosa che viene considerata tipo una lesser West quindi è quasi il cugino che viene rifiutato e che invece si risente ma c'è Federico che mi ha chiesto 60 volte Mirko ma che mi hanno vatti i leopard che fine hanno fatto un paio li hanno distrutti oggi il resto se intendi quelli che sono nascosti ti dico col cavolo però quelli che hanno utilizzato insomma i piccoli attacchi insomma di questi giorni qualcuno è andato perso ci sono le evidenze almeno uno è confermato al 100% a meno che non intendeva il leopard leopard dello zoo che non so a Serengeti non penso fosse quel tipo di declinazione leopard squadra di rugby americana e niente tu fai delle domande no stavo leggendo un attimo in chat ci sono domande molto perché probabilmente abbiamo aperto mille topic per cui la gente si sbizzarrisce chiede Giuseppe Lentini cosa ne pensate della colonizzazione Belgio Germania Paesi Bassi di oggi è farvi avere un'opinione sulla colonizzazione o forse no sono delle colpe che ancora oggi non riusciamo a lavarci ricordiamoci che quando si fanno i vari interventi anche in Africa ci mandiamo i pakistani perché meglio mandarci un francese in inglese è bella il motivo ho parlato per cui i russi hanno anche molto appiglio perché non pagano non hanno l'aura di colonizzatori ma guarda è un forte influsso ricordiamoci il secolo dell'umiliazione cinese che è forte nell'imprinting anche di Xi Jinping togliersi questa cosa dell'umiliazione la guerra dei boxer eccetera infatti ci partecipò anche Messe quando era giovane quindi è interessante anche questa storia qui a noi sembra nulla il colonialismo sì vabbè abbiamo sbagliato chi se ne frega no no ce l'hanno marchiata a fuoco loro una volta l'abbiamo lasciato noi il marchio l'India anche la storia lì ce l'hanno marchiata perché poi scusami comunque nel senso cinesi russi adesso amici amici però non so ho sentito ditemi se dico cazzate ma che comunque i cinesi sotto sotto non è che siano proprio amiconissimi con i russi anche per una questione no ma anche per una questione territoriale nel senso che li vedono un pochino colonizzatori in realtà paradossalmente gli anni 60 si sono fatti la guerra sul confine schermaglie sul fiume ussuri esatto non si raccontano pure quando hanno cominciato a rubarli o quando i cinesi si vendevano come alternativa poi ricordiamoci la politica del ping pong insomma ne hanno presi di vie di vie strane eh sì poi io sono appassionato di storie un pochino orientali i sovietici a un certo punto quando c'era Shanghai Sheik che stava facendo la dottrina del boxing detto can I cash check esatto il bell'assegno americano e grazie ad aiuti tedeschi tra tutti gli aiuti sovietici proprio il reparto sovietico dell'estremo oriente se ne andò da Mao cioè disse signori qui qui sta finendo ciao e quello mi sa che la Cina non se l'è mai propriamente dimenticato cioè quella sai chi mandarono insegnare i cinesi a combattere Hans von Secht von Secht infatti faceva parte della missione cinese fra l'altro li mandarono anche dai Panzer 1 che vennero poi catturati dai giapponesi a volte fanno il giro del mondo li esibirono anche probabilmente li copiarono anche perché se vuoi vedere i carri giapponesi più o meno sì quei carinissimi carri giapponesi vai Hago e yesi honey anche prodotto zero meno uno per te qual è stata la battaglia più interessante della storia beh è difficile c'era una battaglia che è più interessante di altre cioè sono che sono state fondamentali Agile Kurt per esempio è abbastanza interessante nella storia l'Epan è stata molto interessante sono delle spartiacque no? la calata dei polachi dal Kaleberg faccio un po' di autocelebrazione polacca no? che ha fermato l'avanzamento dei turchi in Europa ma potrebbe essere anche bellissimo le termopoli sì quando si apre la battaglia più interessante più importante non si finisce mai si va da Zama passando per non lo so la battaglia della montagna bianca verso le scogliere rosse in Cina lì dipende proprio dalla preparazione da cosa repute interessante che anche questo è interessante di per sé perché i giapponesi come sono stati visti nel corso della storia del resto degli esarchi male malissimo perché ricordiamoci quello che hanno fatto in Corea in Cina l'idea della sfera di coprosperità la dottrina del nan shi ron del koku shi ron in realtà era praticamente voi siete un branco di schiaviti vi succhiamo le risorse se noi siamo la razza superiore si i giapponesi sempre visti come gli ariani d'Asia quindi cosa è successo tra te l'ambasciata russa in Italia e che è adesso dicicero tu ci sono passato l'altro giorno davanti a Roma quando ero a Roma e che è successo racconta una borsa piena di documenti qui qualcuno cita la battaglia di Poitier che è interessante anche Kades vedo citato il falato c'è in una canzone di André scritta da Paolo Villaggio Carlo Martello torna dalla che è una bellissima ballata proprio Mirko ma tu sei nato in Polonia o in Italia ci sono tutti qui a Livorno e qui chiedo anche per le dichiarazioni di Draghi di oggi le avrai sicuramente sentite e me ne sono persa che ha detto che ha detto che la guerra in Ucraina è esistenziale cioè io l'ho letto dall'ANSA quindi non ho letto esatto non ho letto la sbobinatura non ho ascoltato la sbobinatura non ho letto il testo però sembra che la guerra in Ucraina sia esistenziale per l'esistenza stessa dell'Europa che può lasciare il tempo che trova come analisi ok esatto la reazione di Roma ok detto come lo dice Chad quello di Stato del Night Live ok 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 quel che dici tu eh sì Livorno famoso paesino polacco esatto sulle coste lì qualcuno prima mi ha chiesto ma cosa ne pensi della lotta fra Pisa e Livorno a me di questa roba provinciale non è mai fregata assolutamente non è neanche mai vissuta non ti fanno squadra di calcio campanilismo un po' superato ormai sì Livorno mi dicono dalla regia che in realtà è Pisa merda va ancora forte però non lo so beh se vai in stazione arrivi c'è l'indicazione ho messo Pisa è sempre sotto tra parentesi c'è scritto ma le niente però conosco tutti i modi di Livornese tipo meglio morto in casa che un Pisa da Ruscio vedi che allora alla fine gli influssi culturali comunque volente o non volente qui Guido chiede è vero che gli asiatici a differenza nostra quindi occidentale possiamo immaginare non dimenticano la storia e conservano i rancori tra stati cioè in sostanza non cambia la loro politica a seconda della realpolitik direbbe qualcuno guarda ogni volta che c'era Shinzo Abe che andava a Yusukuni no a portare omaggio ai cinesi dall'altra parte morivano no ma io Shinzo Abe se ne è andato troppo presto battuta battuta mia un personaggio che a me piaceva tanto Shinzo Abe aveva il suo perché interessante ecco Mirko come procede il Pianzello bene se non sbocca un mulo perfetto e ricordate se non sapete rispondere a una domanda dite 42 esatto domanda per la vita questa è una domanda invece molto interessante che avrei già affrontato migliaia di volte ma che è una domanda che è nata dall'inizio della guerra in Ucraina la guerra in Ucraina ha dimostrato che c'è qualcosa che non va diciamo che tutti ci siamo abituati alle armate tedesche che fanno piazza pulita eccetera eccetera e l'ideologia dietro queste armate tedesche che fanno piazza pulita è basata sul carro armato e molti vedono che questa guerra sta portando l'immagine del carro armato un po' nel fango cioè che sta un po' cambiando l'idea del carro armato come punto questo nell'ottica possiamo dire della cultura popolare che è molto diversa dalla cultura diciamo più alta cosa ne pensi di questo? Il carro armato sta davvero scomparendo sta davvero perdendo il suo fattore X direbbero Per me è inutile fissarsi su un singolo sistema d'arma di per sé perché ogni sistema d'arma può falire se viene utilizzato male ricordiamoci anche che i carri russi come linea di pensiero come meccanica come impostazione sono carichi a 50 anni pensati per un esercito di massa l'autoloader il caricatore automatico era pensato per avere un uomo in meno in modo che ogni tre carri avevi un carro in più quindi hai un esercito quasi professionisti che utilizza comunque dei mezzi pensati per un esercito di massa dove le salvaguardie della vita erano molto poche per la riservetta delle munizioni in vista 360 quadri esplode eccetera quindi basare questa considerazione su quella particolare esperienza senza aver visto dei mezzi occidentali veramente moderni cioè vediamo una battaglia Abrams contro Leopard 2 poi ne parliamo se sono o meno poi li devi anche saper utilizzare perché se dai di Leopard dai Turchi questi vanno in mezzo a una città dipende come li utilizzi qua ci sono stati tanti errori sono dei mezzi vecchi sono stati utilizzati male a livello dottrinale con poca scorta poca ricognizione eccetera anche perché poi i carri moderni come queste se leopard 2 a 7 o anzi ma ancora meglio il Panther nuovo in realtà hanno e lancia droni per cavoli suoi quindi potrebbe rivalutare perché magari lancia i droni per distruggere altri droni quindi potrebbe avere il counter del drone stesso in sé se viene dotato non puoi basarlo su un T-72 che è un concetto molto vecchio cioè sono entrati in guerra con mezzi non fatti per una nuova guerra tra virgolette e probabilmente stavamo parlando della scienza della tecnologia che avanza in periodi di guerra ma sì ma probabilmente il carro dopo diventerà qualcosa di diverso guidato in remoto eh sì infatti pure io stavo pensando anche se probabilmente ormai c'è stato il film però Dune immagino che tu lo conosci probabilmente si andrà ironicamente in una direzione del genere diventerà tutto così remoto che i sistemi di jamming renderanno tutto di nuovo quello Dune è interessante un mondo a science fiction dove praticamente dopo un'era estremamente tecnologica si scende praticamente sul corpo a corpo eh quello che forse ce l'aveva visto lungo però comunque sì il problema di cioè di tecnologizzare tutto che appena sei tanto di fanboy del Quisassar Derach esatto più di Sardukar e domande volgarissime cos'è che dice il comandante di Sardukar quando richiede le divise Azzatah è fatto esatto se il comandante se l'imperatore lo comanda è fatto esatto colpiamo dove dove l'imperatore comanda mhm o per l'altro ci sono anche degli eroi nel film perché vedi Salusa Secundis come un pianeta sì sì in realtà era tipo un pianeta di foreste sì vabbè ma lì lì è la è la bellezza visiva cioè per me ha detto facciamo un pianeta carino tipo di foreste facciamo un pianeta orribile facciamo un pianeta in cui piove sempre facciamo un pianeta così diamo un po' l'impressione che sei un universo che vai io apprezzo tantissimi film di fantascienza eccetera eccetera quindi non sono di parte direbbe qualcuno eh sì carro armato migliore della seconda guerra mondiale che sono la domanda più stupida che che si possa fare ragazzi non esiste il carro armato migliore lo Sherman è il carro armato migliore per gli americani dal punto di vista logistico dovevano avere un carro di un certo tonnellaggio che potesse essere caricato ovunque che funzionasse nel deserto come nella giungla come in Europa eh in realtà la cosa migliore è la trinità cioè dal punto di vista di quello che poi diventerà l'MBT probabilmente il Panther mobilità corazzature potenza di fuoco però aveva un sacco di difetti iniziale per i russi era il T34 perché comunque era un carro felice come li chiamo io cioè quelli che hanno poca depressione ehm prodotto in quantità estremamente semplice tre mesi di vita al massimo tanto era inutile farlo di livello qualitativo elevato tanto viveva al massimo un paio di mesi viveva io li chiamo quasi come fossero degli esseri viventi no? Cioè sopravvivevano due settimane un mese sul fronte quindi era inutile farli come facevano i Tiger tutti perfetti eccetera non esiste il mezzo perfetto esiste il mezzo perfetto per le esigenze di quel paese sì sono sono d'accordo perché alla fine di solito l'inizio del discorso è qual è il caramonato perfetto e poi a un certo punto capisci qual è il caramonato perfetto per l'occasione per quello che mi serve per ciò che deve fare e lì si crea la dottrina e lì non puoi trovare più il caramonato perfetto cioè il caramonato adatto alla dottrina e quindi qualcosa che funziona nel deserto non funziona lì quindi si crea una discussione molto più ragionata ma molto più complessa anche ragazzi che dite facciamo un altri dieci minuti di risposta un po' alle domande poi chiudiamo vai va bene dai ragazzi un po' di domande India o Cina Cina mi piace anche di più la cucina la cucina cinese nulla da dire anche io grande fan somiglianze con i regimi totali del 1900 e con le cose che hanno portato alle guerre passate e io infatti l'ho letta due o tre volte questa domanda non ho capito il concetto somiglianze rispetto a cosa eh esatto cioè fra di loro fra di loro ma sicuramente la propaganda sicuramente la propaganda sicuramente le purghe perché le purghe le facevano eh i regimi di destra come i regimi di sinistra sicuramente l'impostazione dell'esercito è una di quelle cose la mobilitazione delle masse la propaganda può essere una di quelle cose una cosa che noto sempre di sia di destra che di sinistra eh ma io lo vedo anche negli discorsi che si fanno sull'Ucraina eh se una notizia viene fuori da quello che io precipisco come il mio avversario ideologico è automaticamente falso sì senza andare a verificare se è realmente falso solo perché l'ha pubblicata X è falsa non se è realmente falso perché non vai a vedere di per sé c'è anche questa tendenza qui infatti c'è la classica battuta che subiscono molto gli ucraini del non è vero non è successo è un photoshop cioè hanno la risposta classica che puoi quasi percepire quando no no mi è successo proprio con la storia della Nafin siccome l'aveva postato pubblicato un sito che secondo loro era vicino a anche se erano poi i twitter del fondatore quindi sì ok se non ti piace questo prendi un altro tanto sempre lui li ha fatti automaticamente fonte dubbia ma veramente riportavano semplicemente i tweet del fondatore quindi il fatto che lo riportano anche loro non è che direi e questo modo di ragionare è estremamente ideologico eh sì che è polarizzante anche porta anche all'assenza di dialogo però comunque è una guerra quindi l'assenza di dialogo credo che sia la base del conflitto purtroppo domanda se dovessi scommettare quali sono le prossime mostre militari per te più probabilità parte di entrambi l'offensiva è un free la mappa tipo allora abbiamo il bastoncino secondo me è un'altra mobilitazione russa se volete continuare sotto banco vanno avanti vanno avanti imperterriti secondo me se Trump è stato nel potere e riuscisse a far uscire il giusto dall'annato no perché dovresti rinunciare di essere a capo di un club che tu lo si lamentano non pagate ma in fondo li fa comodo il fatto che noi non paghiamo perché così possono sempre di non pagate come andiamo noi si Trump è un lamentone però non farebbe mai una cosa del genere è un tiso a cui piace vociare questo poco ma sicuro Mirko secondo te l'Ucraina li prenderà la Crimea non direttamente la possono prendere tagliando il corridoio e distruggendo il ponte e poi forzando praticamente i russi ad andarsi ma con la forza io l'Italia come è messa sul piano geopolitico e credo che con questa non ha grande margine di manovra nel senso che abbiamo degli interessi nostri intorno rapporti con la Libia eccetera la quarta sponda prendetevelo un po' come vi pare lo scatolone di sabbia per tornare a discorsi un po' vecchi ma internazionalmente non ha grandi rapporti deve comunque rimanere nell'enclave dei rapporti della Nato dell'Unione Europea eccetera non ha un peso specifico tale paghiamo ancora insomma la seconda guerra mondiale sì ma invece questa la faccio io perché vabbè è un tema che mi è sempre a cuore mi interessa ma un po' di opinioni diverse ma secondo te l'Europa intesa come Unione Europea che futuro può avere? Io politico? sì in generale in generale quello è il problema non è un'entità non è qualcosa con cui ti puoi interfacciare ma ci si può arrivare? secondo me sì io non avrei fatto l'Unione Monetaria avrei fatto prima l'Unione Fiscale e legislativa prima ancora di fare la moneta perché avevo visto gli stati si fanno prima dal punto di vista legislativo è di solito la rivoluzione francese è appunto io se avevo visto un intervento di Fabri l'errore di fondo è quello un intervento di Fabri che diceva appunto che non è mai successo nella storia dell'uomo che una nazione si costruisse senza diciamo un conflitto una guerra un e quindi effettivamente oddio noi ce la siamo fatta tra di noi ce la siamo fatta però l'abbiamo fatta non sono così d'accordo con Dario noi ce le siamo date secche per 2000 anni quindi ce la siamo costruita no io guardo più la cosa dal punto di vista legislativo prima uno si costituisce come stato in base a delle leggi che ci siamo dati noi no ognuno ha le sue leggi interne eccetera eccetera il fatto per esempio che ognuno ha una tassazione diversa già quello ci facevamo concorrenza cioè se giochiamo tutti alle stesse regole con le stesse tasse poi vediamo chi è il più bravo eh quello si ma quindi pensi che comunque un percorso diciamo legislativo sarebbe più merito cratico nel senso che la gestione locale farebbe la differenza sì ma idealmente è possibile cioè secondo te ci si può arrivare tramite diciamo un percorso pacifico e politico nessuno avrebbe mai puntato all'unione europea 40 anni fa 50 anni fa è una roba impensabile il superamento degli stati nazionali ci si arriverà per gradi è un processo noi siamo ancora una civiltà tipo 0,5 neanche uno 0,4 dipende che scala usiamo e la cessione della Corsica la Francia da parte della Repubblica di Genova che è stato un errore perché Napoleone sarebbe stato italiano valedetti era un pelo la famiglia era di ordine lucchese peraltro il suo nome sarebbe di Buonaparte lo cambiamo in Buonaparte Buonaparte perché i francesi non riuscivano a pronunciarlo Buonaparte le Petit General e direi raccogliamo proprio le ultime due domande e vai Mirko te la senta let's wrap it up come dicono l'inglese vediamo Mirko ha dovuto accorciare la domanda volevo dire prossima mossa qualora l'offensivo credo andasse secondo i piani qualora andasse secondo i piani probabilmente ci sarebbe anche meno appoggio occidental cioè secondo me anche noi dopo un po' li spingiamo a fare un accordo se non funziona il motivo per cui sono anche molto motivati a far vedere che riescono a fare qualcosa per ottenere ancora ancora di più hanno questa spada di Damocle dietro in un certo senso Mirko la guerra civile in Italia quanto è inflitto sulla nostra protezione e la nostra unità molto non siamo mai venuti a patti con la nostra guerra civile mentre la Spagna per esempio questa è una cosa che racconto spesso ai cimiteri della guerra civile spagnola dove ci sono i morti di uno e dell'altro insieme noi te lo immagini un cimitero dove ci sono fascisti e partigiani insieme noi quel tipo di introspezioni non l'abbiamo ancora fatta quello ci manca quello ci manca è una discussione perenne non si sa neanche da che parte pigliarla perché io la finirei con la battuta di Montanelli sentiamo diceva che un suo finanziatore e amico che si chiama Ugo Ietti disse ma te non hai capito nulla degli italiani gli italiani sono un popolo di contemporanei poiché senza posteri né memoria lui disse io la presi come una butade ma poi mi accorsi che aveva assolutamente ragione e così la chiudiamo direi di fare i ringraziamenti però lascio te ma che dire è stata una serata molto lunga interessante e Mirko grazie mille per essere venuto qui da noi grazie a voi poi ci becchiamo a Milano da qualche parte quando vuoi assolutamente quando passi di qua come sai fai uno squillo e noi ci siamo e niente ringrazio la chat ringrazio tutti quelli che sono stati con noi e niente fate un salto sul canone di Mirko se non l'avete già fatto e noi ci vediamo